benvenuti in un nuovo video da carmenia 94 ragazzi iscrivetevi al canale attivate la gamba nella che la cosa più importante e nelle informazioni di youtube nelle informazioni non in descrizione nelle informazioni ci sono tutti i canali social tiktok twitch youtube e facebook detto questo ragazzi siamo diventati si è rotto c'è ma notella io parlo del tifo si è rotto il tifo ormai non è un tifare juventus ma è un tifare pro e contro allegri chi va a favore di allegri chi va contro allegri ormai non si tifa più per la juventus ormai non si tiene più per la juventus c'è gente addirittura che avrebbe piacere che la juventus le perdesse tutte queste partite perché ovviamente è contro allegri gente che è contenta per il quarto posto come me perché la juve va bene perché è pro allegri tutto questo è imbarazzante bisogna di fare la juve io sono uno uno di quelli che ha preso allegri a quattro anni di contratto almeno che la società non lo cacci via a fine stagione ragazzi l'allenatore è massimo allegri quattro anni di contratto dovete ambientarvi perché non ha alcun senso andare lì ogni domenica a dire allegri non è buono allegri qua pure se vinciamo vinciamo a culo io sono d'accordo con tutto quello che dite voi però bisogna tifare per la juventus ragazzi non esiste proprio una cosa del genere cioè ormai non si tifa più juve non si tifa più juve questa è tristezza lo stadium è morto perché ci sono persone lo dovete sapere io ho messo un post nella community di youtube dove la gente dice ma è giusto che la società abbia fatto questo hanno ricattato la società fratello mio fratelli miei state ancora a pensare a queste stronzate che vi piacciono le curve sono sempre state queste dove vai vai le curve dove c'è business è sempre stato così non mettiamoci nei panni dei ridicoli non sappiamo nulla quindi dobbiamo fare il cesso muti non possiamo criticare nessuno e poi sono scelte loro fine è inutile che tu vieni a dire hanno fatto bene agnelli ha fatto bene alieni non ha fatto bene un cazzo perché da quel giorno ha ucciso la curva sud dello stadium i veri tifosi gli ultras perché senza ultras non siamo nessuno allo juventus stadium ma vi devo ricordare le abbolge che c'era con conte la bolge che quando c'era la champions league le bolge che c'erano tutte le domeniche striscione ma qua non si tratta il fatto di non che è stato vietato l'ingresso agli ultimi è stato vietato l'ingresso dei striscione e bandiere è una curva senza striscione e bandiera non esiste non esiste non siamo l'inghilterra non siamo l'inghilterra non può mai diventare l'inghilterra fine come la penso io poi ragazzi fate voi eh siete siete liberi di sci però pro contro max allee mettetevi il cuore in pace aspettiamo la fine della stagione vediamo se arriveremo in centro vediamo se riusciamo a vincere la coppa italia ragazzi si deve tifare juve salta di fai juventus si deve tifare per la juventus no con max o contro di max ormai il web ho visto anche tifosiamo c'era uno che augurava direttura sti pezzi di merda che ti fa leggo ormai siamo tifosi allo sbagliato allo sbaraglio benvenuti nel mondo juve due anni di figura di merda e guarda come ci siamo ridotti io vi saluto questo era il mio pensiero con i pro e i contro l'inghilterra 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 bello io